ciao e benvenuti nel mio canale oggi vi voglio parlare di un prodotto che ho acquistato per potenziare la mia dj ai action cam 2 ora vi faccio vedere cosa ho preso e andremo a vederlo nello specifico ecco voi allora questo è il microfono di cui vi ho parlato che io utilizzerò per avere un audio migliore fra la dj ai action cam 2 accendiamola un trasmettitore con innesto tipo c è il microfono come vedete si sta connettendo e come vedete qui da questa immagine se io parlo prova prova vedete ora io registrerò questo video registrerò il video inizia la registrazione io in questo momento sono qui lascio la action cam che riprende qua e mi sto spostando mi segui mi segui con l'inquadratura e come vedete io lascio la action cam qui che sta registrando vieni con me vieni con me 1 2 3 prova 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 io sono distante dalla action cam così si fa una prova 1 2 parlo piano parlo piano prova prova questo è quello che ho provato e ho trovato per i miei video se vi fa piacere condividete mettete un like al canale e seguitemi ciao grazie 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 grazie